L'entusiasmo dei giovanissimi, la voglia di divertirsi in un clima di grande fair play. In una parola sola, Mediolanum Baby Cup, il torneo solo per numeri 1. Il sinistro d'Italia gioco! Il Mediolanum Baby Cup, che sta per aprire le porte alla sesta edizione, è l'unica competizione autorizzata dalla PGC che permette alle scuole calcio della provincia di Latina di potersi confrontare fra loro durante l'arco di tutta la stagione. L'evento, organizzato dall'Accademia Sport in collaborazione con Broker Sport e ASG La Soccer, si disputerà nello splendido scenario dell'Agora Fitness, in via Bonanni traversa di via dell'Agora Latina. La conclusione c'è il vantaggio di Lanzio Lavino con Pasquinelli. La chiusura delle iscrizioni è fissata per il prossimo 3 ottobre, mentre la competizione, il cui inizio è previsto per domenica 18 ottobre, vedrà al via 5 categorie di gioco, dalla fascia di età del 2005 a quella del 2009. La manifestazione, che si concluderà a maggio dell'anno successivo, ha fatto registrare nella passata edizione numeri da capogiro. 30 società, 96 squadre, 7 categorie di gioco, 29 giornate di gara e 379 partite disputate. Il Mediolanum Baby Cup è inoltre caratterizzato da un momento iniziale altamente spettacolare, che farà la preludia alla competizione vera e propria. La sfilata all'interno dell'Isola dello Sport di tutte le squadre partecipanti in Piazza del Popolo Latina. Valerio Baniccia! Tanto calcio giocato, ma anche la possibilità di poter rivivere le emozioni di questo evento. Nelle giornate finali della Kermess, lo staff di Mondo Futsal dà la possibilità a tutte le società iscritte di avere un ricordo della manifestazione, con la realizzazione su richiesta dei DVD personalizzati contenenti le riprese commentate in alta definizione delle partite. Mediolanum Baby Cup, sesta edizione. Entra anche tu tra i numeri 1.